urrà 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 splendido oro per nicolò martinenghi nuoto è il varesino a conquistare il primo oro nella splendida spedizione azzurra di parigi martinenghi trionfa nei cento rana con 59 0 3 davanti al britannico adam pitt e allo studi unitense nick finch l'italia torna a vincere un oro olimpico nel nuoto otto anni dopo il successo di gregorio paltrinieri a rio thomas cecon vince la semifinale con il tempo di 52 58 nei cento dorso e conquista l'accesso alla finale con il secondo tempo il rivale principale dell'azzurro potrebbe essere il cinese xiu reduce della vittoria della seconda semifinale con il tempo di 52 e 02 la finale domani a partire dalle 20 e 30 benedetta pilato conquista la finale nei cento rana con il settimo tempo elisa angiolini prima delle escluse megli e regaini escono in semifinale nei 200 metri stile libero quinto posto per alberto razzetti nella finale dei 400 misti oro al francese leon marchand scherba clamorosa delusione nella scherma italiana volpi perde anche la finale per il bronzo del fioretto individuale contro la canadese harway si chiude senza medaglie una giornata da incubo per la scherma azzurra il medagliero olimpico dopo la seconda serata recita così il primo posto per il giappone con quattro ori due argenti e un bronzo seconda australia con quattro ori e due argenti terza stati uniti con tre ori sei argenti tre bronzi l'italia è settima con un oro due argenti e tre bronzi